Sui generali dell'armato d'Italia, eserciti da Nkiki, Genghis Khan, invasioni moderne, caratteri dei conquistatori, non è di sì. L'imperadori è stato indisposto e ha lavorato a lungo nella sua camera. Mi ha dettato il retratto dei generali dell'esercito d'Italia, ma sendo un uomo di raro coraggio e tenaci, il cui talento cresceva col crescere del pericolo, che il vinto era sempre pronto a ricominciare come se fosse stato vincitore. Ogro, che, al contrario, ne aveva sempre abbastanza, era affaticato e quasi scoraggiato dalla vittoria. Tuttavia Napoleone sosteneva che era stato soprattutto Ogro ad eccitare la giornata dei castiglioni e che, se bene avessi, rimproveragli inserito qualche torto. Il ricordo di questo grande servizio reso alla Nazione Grille restò sempre impresso e superò ogni altra considerazione. Serurier, che aveva conservato tutte le forme della severità di un antico maggiore di fantaria, che ad un uomo, proprio sicuro, ma generale sfortunato, Stengel, che possedeva in maniera eminente tutte le qualità di un generale d'avancordia, la harpa granitiera per coraggio e per stature, che morì così malamente. Vaubois si ritroverà lo sviluppo di tutto questo nei diversi capitoli riguardanti la campagna d'Italia. Fra i vari argomenti trattati nella giornata notteciocchi, l'imperatore diceva sugli eserciti degli antichi. Egli si chiedeva se si dovesse credere ai grandi eserciti di cui si parla nella storia. Pensava che, in gran parte, le citazioni fossero esagerate o tal tutto false. Così, per esempio, non credeva alle innumero le truppe ammassate dei carticinesi in Sicilia. Tanti soldati osservavano se erano stati inutili e non impresti così facili. E se i carticini avessi potuto recoglierne tanti, se ne sarebbero contati molti più nella spedizione di annavali, che erano di ben maggiori importenze e che, al contrario, non contavano più di quaranta o cinquanta mille uomini, non credevano nemmeno ai milioni di uomini di Dario e dei Sersi, che avrebbero coperto tutta la Grecia e si sarebbero dispersi in una multitudine di eserciti parziali, metteva in dubbio persino tutta la parte gloriosa della storia della Grecia. Nei risultati della famosa guerra persiana, Eglion scorgiva che delle azioni indecissime alle quali ciascuno dei combattenti si attribuiva la vittoria, Sersi se ne ritornò tra gli uomanti da aver presso, bruciato e distrutto Atene, e i Greci esalterò nella loro vittoria per non essere rimasti sconfitti a Salavina. Quanto ai clamorosi e particolari sulle vittorie greche e sui sconfitti dei loro sterminati nemici, non si deve dimenticare, osservava Napoleone, che sono i Greci che lo affermano, che erano vantatossi e i porbolici, mentre non abbiamo nessuna cronaca. Le Persie per poter formulare un giustizio sicuro sulla base di un dibattito in contraddittorio. L'imperatore credeva invece alla storia romana se non in tutti i dettagli, almeno nei suoi risultati finali, perché erano fatti evidenti quanto la luce dal sole. Così pure, credeva alle armate di Genghis Khan e di Tamerlano, così numerosi come è stato sostenuto perché questi condottieri si portavano dietro interi popolazioni domani che sul loro cammino si accrescevano di altri popoli. Non è del tutto impossibile, aggiungeva l'imperatore, che l'Europa finisce un giorno in questo modo. Lo sconfoglimento operato dagli uni dal quale si ignorano le cose che si sono perduti nel deserto potrebbe ripetersi. La Russia è una situazione eccellente per poter condurli a una simile catastrofe. A suo piacere riesce più a reclutare enormi masse e rovi sciagli su di noi. E si troverà tutti questi popoli nomadi tanto più disposti e impassiessi d'avventure in quanto i ranconti e i succesi di quella tra loro che hanno fatto di recenti scorerì fortunati e produttivi. Hanno eccitato la loro fantasia e la loro avidità. Il discorso è passato quindi sui conquisti e sui conquistatori. E l'imperatore conclusì che per diventare fortunato conquistatore è necessario essere feroci e che se egli avessi voluto essere feroci avrebbe conquistato il mondo. Mi permissi di contraddire queste parole certo svecchitelli senza pensarvi o essendirli come egli fosse precisamente la prova del contrario perché non era stato feroci e tuttavia aveva conquistato il mondo. Con la sole ferocia dati i nostri costumi moderni egli non sarebbe certamente mai giunto al punto in cui era pervenuto, non è? Infatti il terrore che oggi pio sottometterci a un uomo ma soltanto le buone leggi la persuasione che deriva da una grande carattere capaci per la sua energia di farli rispettare proprio questi erano stati dicevoli la ragione del successo di Napoleone della sottomissione e dell'obbedienza dei popoli.